La gente ci sognava con il dito, dicendo guarda la felicità. Quei erano giorni, oh sì, erano giorni e tu al mondo non puoi chiedere di più. E dipensandoci mi vieni un oro qui e se io canto questo non vuol dire. Profumo d'altri tempi, di un calcio che non c'è più, di un calcio più semplice che si giocava solo alla domenica e sempre alla stessa ora, ma che evidentemente piace ancora. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che a 40 anni di distanza lo scudetto del Cagliari di Gigi Riva suscita ancora grandi entusiasti. Alla festa celebrativa dello scudetto, organizzata dai Cagliari Club per iniziativa di alcuni ex rosso-blu, c'erano tanti cinquantenni quasi sopraffatti dalla felicità di poter avvicinare gli idoli dell'infanzia. Ma c'erano anche tanti giovani che quando il formidabile team guidato da Scopini umiliava a Sondigoglio e agli squadroni del nord, non erano nemmeno nati. Ma c'erano soprattutto loro, quei formidabili 16 ex ragazzi felici di ritrovarsi dopo 40 anni, con gli occhi lucidi e l'immutata voglia di scherzare, caratteristica di tutti. Di quegli otto che hanno scelto di vivere nel posto più bello del mondo e sono ancora loro, e degli altri che ritrovavano per la prima volta i compagni di un tempo. Ora fanno gli assicuratori e i commercianti, alcuni di loro sono rimasti nel mondo del calcio, altri non ne vogliono più sentire. Troppo diverso o peggiore di quello che hanno giocato. Ma quella è stata una tappa della loro vita che non si dimentica. Ha cambiato totalmente il calcio, la nostra generazione viveva ancora di sentimento per i colori, per la maglia, per la gente. Noi sentivamo molto la presenza del pubblico quando andavamo a Torino, a Milano, a Brescia, a Bergamo. Arrivavano centinaia di pullman dalla Svizzera, dalla Germania, tutta gente, tutti sardi che lavoravano fuori dalla Sardegna. Ci chiedevano una vittoria per poter rientrare ed essere orgogliosi di questa squadra che per la prima volta nella storia del calcio si permetteva di andare a vincere a Milano o a Torino. Anche 40 anni fa sembrava una cosa impossibile. Perché avevamo il gruppo Torino-Milano che naturalmente dominavano nel calcio. Se tu guardi bene anche i calendari, cioè gli anni di Scudetto, vedi o Milan o Inter o Juventus. Noi ci siamo inseriti nel 68, abbiamo incominciato a creare problemi un po' a tutti e a migliorare in classifica. Da lì abbiamo capito che la nostra squadra poteva essere competitiva, tanto che noi lo Scudetto lo potevamo vincere sia l'anno prima che l'anno dopo. Più facilmente l'anno dopo, il 70, se non ci fu, poi c'è stato con il Fortunio mio in Austria. Eravamo già primi in classifica, l'ultima partita che ho fatto io, avevamo vinto a San Siro 3-1 con l'Inter che poi quell'anno vinse il campionato l'Inter. Senti Gigi, quanto fu importante l'ambiente, il fatto che i Sardi comunque vi lasciassero abbastanza in pace, questo calore ma anche questo rispetto per la vostra privacy? Importantissimo. Infatti a Cagliari ancora oggi ci si trovano bene tutti i calciatori perché il Sardo ha proprio il rispetto. Se è difficile trovare o che io ricordi una contestazione a Sant'Elia, è difficile se hai giocato male che uno ti fermi per strada e ti ricordi magari che il giorno prima hai sbagliato il rigore o robe del genere. Ti fermano solo per dirti bravo e allora questo va a vantaggio del calciatore che non subisce tensioni di nessun tipo e va in campo sereno. A Vienna con Wiener ci fu un tifoso che aveva saltato la barricata e aveva incominciato a picchiare Claudio Nenè perché naturalmente è un razzista. Allora è partita tutta la squadra, tutta la squadra è partita proprio in difesa di Nenè e io ho avuto la fortuna, tra virgolette, di trovare quello che stava maltrattando Nenè che mi veniva incontro. E allora è partita un calciotto. Un calcio per il quale hai nostalgia? Una nostalgia dei vent'anni, della gioventù, oggi stamattina quando li ho visti mentalmente rivedevo tutte le cose che abbiamo vissuto assieme. Mi sono accorto che possiamo stare anche 40 anni senza vederci ma quelle emozioni restano sempre di io. I miei giorni felici Le ho vissuti con te Un'estate improvvisa Che sapeva di te Ti mettevi un sorriso Per venire da me Nei miei giorni felici Nei miei giorni felici Prima di ogni perché Da Milano Giovanissimo, giovanelli dell'Inter fino a Cagliari Scudetto al primo colpo Si trattava di un sogno quello? Un sogno Un sogno, un sogno inaspettato perché non sapevo cosa Cosa avrei fatto a Cagliari Sia come giocatore perché io venivo Si da esperienze all'Inter ma non da titolare E quindi Cagliari è stata la sorpresa, la grande sorpresa ma La grande Diciamo vincita di vita Anche perché ho avuto poi la famiglia e tre figli Quindi per me la Sardegna in particolare Cagliari È stata la cosa più importante della vita che ricordo ancora Ecco Io ricordo Che eravamo tutti amici Io ricordo che Mi sacrificavo per gli altri Come gli altri si sacrificavano Per me e tutti insieme Per Gigi Credo che quello fosse La massima forza oltre Alla qualità dell'allenatore Della società La massima forza Quindi Senatore è una parola che mi Mi suona male perché Io credo che l'amicizia e lo spogliatoio Fosse molto più importante L'ambiente della Sardegna di Cagliari Quanto influi su quello scudetto? Molto, molto, molto Questa gestione della vita comune In una terra dove i sardi sono dignitosamente da fate Non hanno mai invaso il campo di nessuno E dove una città e una regione stessa Si sono avvicinate a questa squadra È stata importantissima Senza quello probabilmente non avremmo vinto Ma è ancora più valida questa vittoria Proprio perché Fa felici un po' tutti È la vittoria di una regione È la vittoria dei sardi In generale Quelli che sono all'estero Quelli che sono in Italia Quelli che sono Che sono a lavorare fuori dalla Sardegna Quindi è stata una vittoria Un pochettino di tutti E col contributo di tutti Un'ultimissima cosa Un attaccante di agile come Bobo Gori Oggi c'è nel campionato italiano? Erano altri tempi Si giocava probabilmente anche in maniera diversa Certamente Una cosa è certa Noi facevamo 30 partite su 30 E ne facevamo 50 Quando giocavamo le coppe O la coppa dei campioni E non ci facevamo mai male Ora basta che cadano per terra Sicuramente erano più fragili Sicuramente ora sono più fragili E noi eravamo un pochettino più Più tosti Mi vengono a firmare poi Sessant'olio Sessant'olio Mi sembra cento mila lire Non mi ricordo Allora Comunardo Nicolai, Beppe Tomasini La coppia di difensori Campioni d'Italia Il ricordo più bello di quell'anno Comunardo? Ma credo sia la vincita dello Scudetto E l'entusiasmo dei tifosi sardi E di tutta la Sardegna Lei torna ogni tanto in Sardegna? Ma era diverso dal ritiro Dalla maglia di Riva Che non ritornava in Sardegna Lei veniva dalla Torre Se si ricordo bene C'era già in quegli anni Questa rivalità Cagliari-Stasseri O si sentiva meno? No, no, c'era, c'era, c'era Sì, sì Ci è sempre stata e sempre ci sarà Senta Nicolai Questa fama degli autogol Che poi ne ha fatti pochissimi In confronto a quelli che fanno oggi I difensori Quanto l'ha danneggiata Quanto l'ha divertita in questi anni? No, in questi anni mi sta divertendo Magari quando li facevo Non è che mi divertivo molto Anche per i miei compagni di squadra Per tutto Beppe Tomasini Cominciò il campionato alla grande Poi si fece male Dovete in qualche modo mettersi un po' Però poi ha fatto una scelta di vita Beppe Tomasini è rimasto a Cagliari Insieme ad altri sette giocatori Perché? Cosa c'è di così speciale a Cagliari Beppe? Ma credo che hai detto bene È proprio una scelta di vita Perché avevo altre possibilità Forse maggiori di queste Di andare in Lombardia Però ho scelto la Sardegna Perché a me piace l'isola Piacciono le persone Piace l'ambiente In quest'isola mi piace tutto Mi dice che cosa vi dicevate Voi del reparto difensivo Con Beppe Con Pierluigi Cera Prima di entrare in campo Avevate qualcosa di particolare Che vi dicevate Sugli avversari Sul giocatore Da marcare Oppure così Eravate molto tranquilli Era sereno il tutto Tranquilli Ci pensavo a quello Che si mangiava la sera Dopo la vittoria Negli anni 70 Avevamo una squadra Veramente eccezionale Avremmo potuto vincerlo Per due anni consecutivi Se arriva Non si faceva male A Vienna contro l'Austria Diciamo che Con un po' di fortuna Avremmo potuto vincerlo Tre anni consecutivi Perché anche l'anno Prima dello Scudetto Che siamo arrivati i secondi Vinto dalla Fiorentina Forse non ci avevamo creduto Che fino in fondo Che potevamo vincerlo Infatti Poi l'anno dopo Siamo partiti Con molta più convinzione E siamo riusciti a vincerlo Che cosa lega ancora Ricchi Albertosi a Cagliari E alla Sardegna? Quando arrivò dalla Fiorentina Lei era il portiere della Nazionale Come giudicò? Come visse questo trasferimento a Cagliari? Come una promozione? Come una nuova esperienza? O in che modo? No, l'ho visto come un declassamento Io pensavo di andare La Fiorentina voleva vendermi Però pensavo di andare all'Inter A Cagliari non ci pensavo minimamente Infatti mi aveva chiamato a Lodi Che allora era il direttore sportivo dell'Inter Dicendo che ero già dell'Inter Invece poi quando il presidente mi ha chiamato Per dirmi che mi avevano ceduto Mi ha detto che mi avevano ceduto a Cagliari Per cui la prima reazione è stata Non vado Poi chiaramente allora non potevi rifiutarti Perché era la società che ti vendeva Sono venuto a Cagliari con un po' di titubanza E invece diciamo che forse ho scelto bene Cioè ho scelto Hanno scelto bene per me Sono stato benissimo Ho vinto il mio primo scudetto in un'isola Che vale dieci scudetti vinti a Milano O a Roma o a Torino Ho avuto delle grandi soddisfazioni Sono andato ai mondiali Insieme ad altri sei compagni del Cagliari Abbiamo dato un apporto notevole alla nazionale Diciamo che sono stato contentissimo Del mio trasferimento a Cagliari Sono stato qui dal 68 al 74 Per cui vuol dire che Se ci ritorno ancora ora ogni 2 o 3 mesi Vuol dire che la Sardegna mi è rimasta nel cuore 40 anni dopo lo scudetto del Cagliari Zignoli torna in Sardegna Un fatto irripetibile Che una squadra di provincia Slegata dalle grandi consorterie del Nord Vinca lo scudetto Uno scudetto del Cagliari negli anni 2000 Sarebbe impossibile? Penso di sì ecco Oppure ritrova il Cagliari del 69 Quindi sarà difficile Cioè con un Inter a questi livelli è impossibile È solo una questione di soldi e di organizzazione o che altro? Una società non nasce da un giorno all'altro Il Cagliari del 69 Era nato qualche anno prima Si è formato questo gruppo di ragazzi Che hanno raggiunto l'obiettivo 40 anni dopo questo successo Zignoli come segue il calcio? È cambiato tutto il mondo E il calcio gli è andato dietro? No io seguo poco Gioco ancora Perché sono Seguo l'esempio del Mario Sono ancora qua bello integro Lì arrivò al Cagliari dal Milan Se ricordo bene Il settore giovanile del Milan Quindi Sono passato da Bari Dalla città di Mario Ho imparato qualcosa da E poi ho avuto la fortuna di fare la coppia di un terzini imbattibile insomma 11 gol in 30 partite Ho passato due anni meravigliosi Sempre un gruppo di amici Sempre assieme Ha ancora rapporti con qualcuno di loro? Beh ci vediamo ecco Bobogori abita a Milano Altre volte ci si vede con Riva Che non avevo più visto era Mario Perché si è fermato in Sardegna Io sono venuto alcune volte Ma non ho avuto modo di vedere Ho fatto una scelta Noi che siamo in otto dello Scudetto E gli altri otto sono in continente Cioè la mia soddisfazione Il mio sogno Era di vedere tutti i miei compagni E questo sogno si è avverato dopo 40 anni Siamo Senta Mario Ma perché otto giocatori di quella grande squadra Si sono trattenuti in Sardegna e a Cagliari Cosa c'è di così speciale Nella città, nella gente, nell'aria Che vi ha fatto fare questa scelta di vita? Non lo so neanche io Sono arrivato in Sardegna nel 62 E ho fatto una scelta Perché mia moglie è toscana Io dovevo fare o Firenze o Sardegna Ho scelto la Sardegna Perché forse mi trovo benissimo E tuttora mi trovo bene Una vita tranquilla Una domanda per tutti e due Chi comandava nello spogliatoio? Se qualcuno comandava Tra i giocatori intendo C'era Piero c'era Era il nostro avvocato per il meso Lui non sbagliava mai Noi eravamo La cosa giusta Non sbagliava mai Quindi era giusto prenderlo come nostro capitale Noi si sbagliava Lui non sbagliava mai Avete avuto oggi l'impressione di essere nati 40 anni in ritardo Con quello che guadagnano oggi i calciatori Con quello che hanno Zignoli Beh ma nello sport si è sempre guadagnato bene Meglio di cui sia c'è altro lavoratore Quindi è un divertimento più ben pagato anche allora Oggi c'è un'altra dimensione però Non vi è mancato niente? Io preferivo giocare oggi e non ieri Perché? Eh ho fatto 12 campionati nel Cali Facendo oggi almeno 4 campionati vivevo di rendita Vivevo di rendita Senta Mario si diceva che lei cominciasse a marcare il suo avversario già negli spogliatoi E' così? No oddio Magari dicendogli qualcosa Le gatte da pelare non so Perfì mi hanno dato Rivera Da lunedì cominciava a marcare Io cominciava come ha detto Giulio Cominciava a pensare da lunedì non so Dovevo trovare Rivera E io cominciava a studiare dal martedì Mi davano sempre queste rogne da tipo Bonisegna, Bettega Non so Adesso Chiarugi Pierino Prati Pierino Prati Eh quello più Era questo Prati No l'avversario più rognoso era sicuramente Causio Causio ho avuto Ho marcato Sala Claudio Sala Ecco Mazzola Questi sono tre personaggi che hanno fatto un'epoca E oggi qual è il difensore che si avvicina di più alle caratteristiche di Zegnoli? Ma non lo so perché io di caratteristiche non ne avevo molte Però come Mario eravamo forti di testa Anticipo una cosa e poi eravamo tosti Un uomo Si faccia rispettare E' lui Magri, piccoli ma tenaci Come i sardi Sì ecco Irripetibile Non è mai detto irripetibile Comunque senz'altro difficile E' l'egemonia che abbiamo spezzato allora Adesso sarà difficile ripetersi Comunque mai dire mai Alcuni dei suoi compagni di allora mi hanno detto che Piero Cera era il Era colui che comandava nello spogliatoio insieme a Gigi Riva è vero? No no Non è vero niente Io non ho mai comandato da nessuna parte Io ho solo avuto tutti i amici, i ragazzi, tutti i giocatori Ma comandare non era il mio verbo Da mediano sinistro a libero per l'infortunio di Tomasini Si adattò talmente bene che quello poi rimase il suo ruolo per tutta la carriera Cosa successe in realtà? Non successe niente C'era la necessità che qualcuno andasse a interpretare quel ruolo E io ho detto beh ci provo a farlo io Certo lo dovevo fare a modo mio Non mettermi là dietro a prendere le palle morte E così l'ho interpretato come lo sentivo Non c'era niente di particolare No no Quanto fu importante l'ambiente, la sardiglia Ma anche il carattere dei sardi che in qualche modo vi lasciavano in pace? Ma guardi i sardi l'ho sempre detto è il pubblico più corretto che c'è in Italia E' sempre stato un pubblico che non ha mai rotto le scatole Anche nei momenti difficili Sempre un pubblico che è venuto allo stadio a tifare E che non ha mai creato nessun casino e nessuna contestazione Senz'altro è il primo posto anche in quello Poteva durare anche di più questo ciclo? Ma sì, poteva durare di più Qualcuno l'abbiamo perso noi e qualcuno forse ce l'hanno tolto Eravate più forti fisicamente visto che giocavate a 30 partite Oppure è così lontano il calcio di oggi da quello di allora? No, è un calcio decisamente diverso Non si può paragonare Oggi è un calcio veramente difficile Anche se gli allenamenti sono diversi Comunque è un calcio che non si può paragonare a quello di allora Nostalgia? Nostalgia, ciò Gli anni passano per tutti Dunque nostalgia niente, rimpianti niente È andata bene così È ripetibile Io mi auguro che in questi vent'anni Non dico fra dieci ma in vent'anni Si possa ripetere questo sogno È un sogno che rimarrà nella storia del calcio di Cagliari È una cosa molto bella Poi in questa festa di stasera è una cosa molto bella Senti, tu arrivavi dall'Inter Quindi già da una società blasonata Con quale spirito arrivasti al Cagliari? L'hai vissuto come un declassamento Come una diminuzione o come cosa? Soprattutto un declassamento Anche perché non meritavo sicuramente di scegliere questa società Perché abituato per dieci anni a vivere a Bergamo E poi andare alla Pinettina Ho trovato questa possibilità qua Però ho dovuto accettare Poi arrivato qua le cose sono cambiate Ho trovato un ambiente stupendo Una città stupenda Una squadra molto forte Già inizialmente Perché lo era già l'anno prima Per cui poi con tanto entugiasmo Ho cercato, ho cercato Di dare ancora qualcosa di più Per non rimpiangere i cinque anni passati all'Inter Lo scudetto del Cagliari Quei tu per ragioni di età non hai partecipato Ma che cosa era per un giovane calciatore Che ha fatto il raccattapalle Anche se ricordo bene Stare a bordo campo a vedere questi campioni? Vabbè, io sono cresciuto dietro la maggior parte Tranne Zignoli che l'hanno successivamente andato via E sono arrivato al Cagliari nel 71 E tutti gli altri li ho avuti come maestri Insomma, quindi non è che uno si può scordare questa cosa Se sono diventato anche quello che sono stato Molto merito è loro che mi hanno aiutato E mi hanno dato consigli E mi hanno forgiato insomma Sì, Diggi, tu hai fatto Hai preso un po' l'iniziativa di questa Di questo incontro così importante Ma è stato un fatto così clamoroso Che a 40 anni di distanza Causa ancora questo entusiasmo Ci sono qua ragazzi, bambini Che sono nati 40 anni dopo 35 anni dopo Perché è così forte ancora il ricordo di questo scudetto? Ma se tu immagini che Se noi dopo lo scudetto Venevamo rispettati in tutta Italia Lo dovevamo ancora loro per tanti anni E il Cagliari tuttora quando va fuori È amato da tanta gente In ricordo dello scudetto Quindi poi questi hanno dato tanto Sia i giocatori sia la società In quel periodo E secondo me andavano ricordati Andavano ricordati perché Questi 16 uomini sono ancora tutti in vita E quindi Manca solo l'appello Scoppigno E i due massaggiatori Duri e Viganò che Ricordiamo sempre con tanto affetto E faceva piacere organizzare questa cosa Ho preso lo spunto E poi con l'aiuto di Tomasini E poi con il placere di Gigi Che siamo andati avanti Grazie 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 Devo fare un respiro Perché è un'emozione così Neanche quando giocavo Vedermeli tutti qua Adesso veramente Veramente è una cosa Che non credevo di provare Trovarli tutti Perché siamo tutti in vita All'infuore di Scoppigno Siamo tutti in vita Tutti belli Tutti pimpanti Mi fa troppo piacere Ma troppo veramente In che cosa era più grande Scoppigno? Nei silenzi O nelle poche parole che diceva? Ma sai Scoppigno è stato per noi Un padre Un amico Un grande allenatore E quindi Era una squadra ormai Che era indirizzata A grossi traguardi E lui ha lasciato correre Non ha cambiato pochissimo Quindi è stato intelligente Filosofo E anche in questo Un'ultimissima cosa Sardegna scelta di vita? Sì Non vedo dubbio Tu guarda Quanti ci siamo rimasti Io Certamente Se manco dalla Sardegna Sto male Quindi Sono sardo D'adozione E di diritto ormai Che abbiamo la cittadinanza E mi fa piacere stare qui E tu lo sai che sono Ormai un sardo doc È bellissimo E sono orgoglioso A 40 anni dall'evento Di essere qui ancora con tutti i miei compagni Come che a 40 anni di distanza C'è ancora tanto entusiasmo In chi non vi ha conosciuto Perché è nato dopo? Guarda Per me è stata un'emozione Non indifferente questa qui Vedere tutta questa gente Venuta da tutta la Sardegna Per cercare di conoscerci Dopo 40 anni Non pensavo Che ci fosse un entusiasmo del genere Chi ha rivisto con più piacere Chi ha visto di meno In questi anni? Ma ultimamente Cioè con Riva ci si vede Perché lo seguo via via con la Nazionale Quando va a giro A me piace andare a vedere le partite E così E poi con Nicolai Che viene via A fare l'osservatore Per la Nazionale Under 21 Io ho un club Il club Il porto Quella di una stadio a Livorno Seguo Livorno Un po' in modo particolare Seguo un modo di vedere Magari sempre qualcuno Poi sono venuto in Sardegna 3 o 4 volte Anche con mio figlio E mia moglie Diciamo in vacanza E ho incontrato tutti i ragazzi Stanno qui Martina Donnell Le Unel Quanto contò l'ambiente La Sardegna E il carattere dei sardi? Va tutto Secondo me tutto L'ambiente Il tifo La Sardegna di quei tempi Secondo me È stata un incentivo in più Di questa grossa squadra Che avevamo E secondo me Al Cagliari di quei tempi Mi manca un paio di scudetti Una cosa meravigliosa Veramente una cosa Indescrivibile Approfitto subito Per ringraziare Quei dei club Che hanno organizzato Una cosa meravigliosa Perché Solo Perché ci stiamo rivedendo È troppo bello È troppo bello E senta Poli Quando Eravate nello spogliatoio Quale Quale era la cosa più importante L'amicizia tra di voi O le parole di Scopinio? Ma diciamo che Prima di tutto C'era un gruppo E del gruppo Faccia parte anche Scopinio Era una componente Molto molto importante Ma Io credo Che la cosa più importante Era il gruppo C'era un gruppo Che Non c'erano Nessun Non c'erano In discussioni Se giocava uno Non si lamentava l'altro Cioè Eravamo veramente Un bel gruppo Tutto qua La sensazione più immediata Che ha avuto in questa serata? Non posso dirtelo Perché Non si può esprimere Guarda Ho visto Mancio Sono emozionato Mancini E Zinoli Che non avevo mai visti Nastasio Che Era riconoscibile Perché è l'unico Che non ho conosciuto bene Perciò È una cosa che È a pelle d'occa Capirsi Non si può Esprimere È troppo bello Dopo 40 anni 16 giocatori Tutti qui È fatto irripetibile Lo scudetto del Cagliari Sì Tutto può succedere È difficile Però Può essere ripetibile Secondo me Benvenuta Benvenuta Da dove viene? Allora Io vengo da Empoli Ma rappresento Tutti i tifosi Buoni Fra virgolette D'Italia Rappresento la Federazione Italiana Sostenitori Squadra e Calcio Di cui il Cagliari Fa parte E porto il saluto di tutto il direttivo Che Come è scritto sulla nostra targa Che regaliamo appunto al Cagliari Il passato fa bene per costruire un futuro È vero Noi Stiamo ricordando Uno scudetto per voi storico Perché nel 1970 Comunque Siete arrivati lassù Dove veramente meritavate di stare E questa Penso sia una delle Migliori Occasioni Per dire Che il calcio vero c'è Che noi tifosi veri Lo sappiamo fare E stasera È proprio Grazie a voi Che questi 16 sono qua Quindi Fatevi un bel applauso Perché lo meritate Grazie Grazie Raldo Mancini Raldo Mancini arrivò proprio L'anno dello scudetto Se ricordo bene Si inseri perfettamente in un gruppo Ma è vero che eravate così amici Che vi vedevate anche fuori dal campo Aiutandovi vicendevolmente Beh sicuramente Si era un gruppo direi affiattato Perché una squadra per vincere un campionato Deve essere anche un gruppo Noi sicuramente lo eravamo Quando andavate a giocare a Torino A Milano A Brescia A Bergamo Sentivate il calore degli emigrati Sentivate che giocavate anche per loro In quel periodo Ma indubbiamente si sapeva Che si giocava per l'isola E' chiaro che noi eravamo orgogliosi di questo E quindi sentivamo anche gli applausi E le citazioni dei sardi Lei torna ancora in Sardegna spesso? Qualche volta Non troppo spesso Purtroppo Che si giocava per l'isola Grazie.